Ma che bontà il petto di pollo al pomodoro, l'ho preparata in poco tempo ed è facile da fare. Tagliate il petto di pollo a piccoli pezzi e infarinatelo. Pulite la cipolla, tritatela finemente, pulite anche l'aglio e infilatelo in uno stuzzicadente. Versate in una padella la cipolla tritata, lo spicchio d'aglio e dell'olio. Aggiungete poi i pelati, dell'acqua, delle foglie di basilico, regolate di sale e fate cuocere con il coperchio per 10 minuti. Eliminate poi lo spicchio d'aglio, aggiungete i bocconcini di petto di pollo infarinati in precedenza e fate cuocere per una decina di minuti, mescolando ogni tanto in modo da ottenerno cottura uniforme. Quando il petto di pollo sarà cotto, togliete dal fuoco e aggiungete dell'origano. Servite il petto di pollo e pomodoro ben caldo e se lo gradite aggiungete delle fette di pane per la scarpetta. Facile, facile! E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu! Grazie a tutti!